A ricomincio da me, 2017, Fabiana Iurescia, responsabile Area S3 di Modena, gestita da Aster. Dottoressa Iurescia, che cos'è Aster e quali sono le attività che offre Area S3? Aster è la società consortile dell'Emilia Romagna, gli altri soci sono tutte le università della regione Emilia Romagna, il sistema regionale delle camere di commercio e alcuni enti di ricerca. Aster è il laboratorio per l'innovazione e per la ricerca della regione, offre vari servizi alle imprese, alle start-up, alle persone e noi come Area S3 siamo dei nuovi spazi che sono stati aperti in tutti i tecnopoli della regione. Io sono la responsabile per l'Are S3 di Modena e il nostro target sono i giovani con alte competenze, quindi i studenti universitari, i ricercatori che vogliono approcciarsi al mondo dell'innovazione e della ricerca e quindi entrare in contatto con i circuiti più innovativi come le imprese tecnologicamente avanzate, start-up, laboratori di ricerca industriale, centri per l'innovazione e quindi noi offriamo servizio e supporto a questi giovani ma anche aspiranti imprenditori su tutte le opportunità che ci sono sulla creazione di impresa. Infatti Aster gestisce anche un servizio che si chiama Emilia Romagna Start-up che raccoglie tutte le start-up innovative a livello regionale ma offre anche servizi di primo orientamento e inoltre offriamo anche orientamento sulle opportunità a livello formativo e professionale sempre nel campo della ricerca e coerenti con le strategie di specializzazione intelligenti, infatti S3 sta per Smart Specialization Strategies che sono le strategie scelte a livello regionale che sono agroalimentare, edilizie e costruzioni, meccatroniche e motoristiche, industrie culturali e creative e industrie della salute e del benessere, quindi sono tutte le opportunità formative e professionali correnti con questi settori trainanti.